Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video, finalmente il video più richiesto da tutti voi sul canale ci ho messo un anno e mezzo a fare questo video ma semplicemente perché cercavo di far passare più tempo possibile per raccontarvi al meglio questa vita in van, infatti non aveva senso farvi il video il van in cui vivo da due mesi o quattro mesi o sei mesi, infatti ho aspettato due inverni e questa è la mia seconda estate se non terza perché come vi spiegherò dopo ho vissuto dei periodi al caldo ma che in Italia era freddo e viceversa infatti in questo video che per me sarà il più difficile perché ho tantissime cose da raccontarvi spero di non dimenticarmi nulla e soprattutto di lasciarvi quelli che sono per me i consigli più importanti ma soprattutto le mie sensazioni dopo un anno e mezzo di vita in un furgone di 5 metri e 40 dico come sarà strutturato il video, per prima cosa vi farò vedere tutto ciò che ho nel van tutta l'attrezzatura che ho comprato, tutte le modifiche che ho fatto, specifiche tecniche per quello che ricorderò poi vi dirò tutti i problemi che ho avuto, quali ho risolto e quali no e nell'ultima parte invece vi dirò le mie considerazioni finali, quanto ho speso per questo van, come lo sto pagando perché naturalmente questo van ha un prezzo molto elevato e io ho solo 27 anni quindi è un po' difficile pagarlo in contanti quindi vi spiegherò come ho fatto poi vi dirò nel finale se secondo me questa vita ne vale la pena o meno di farla se la raccomando a tutti, se la raccomando solo a un tipo di persone e per ultimo se ricomprerei questo van spoiler, scoprirete un po' di cose che non vi piaceranno, non sono piaciute neanche a me ma questo poi ne parliamo alla fine quindi mettetevi seduti, bevete qualcosa perché questo video sarà un po' a lungo allora partiamo dalla cosa più importante perché io a 27 anni ho deciso di comprare un van in realtà quando l'ho comprato ne avevo 26 semplicemente perché io sono un informatico e smart working a tal proposito dopo vi farò vedere tutta la mia postazione e come lavoro quindi ho sempre viaggiato da solo ma soltanto nei periodi di ferie poi dopo la pandemia il mio lavoro si è spostato da un ufficio a casa e da lì, dato che il mio sogno è sempre stato poter viaggiare e lavorare ho deciso di prendere la mia moto da corsa e di fare il giro d'Italia lì ho capito che il mio lavoro si poteva fare anche da remoto anche perché io lavoro su turni quindi faccio a volte mattine, a volte pomeriggi, a volte notte quindi questo è perfetto per poter viaggiare perché ad esempio posso lavorare la mattina e girare una città o un altro posto il pomeriggio faccio questo giro d'Italia però al nord ho un incidente moto distrutta la prendo molto male perché a quella moto ci tenevo molto ma comunque avevo una settimana libera di ferie perché nel frattempo io stavo viaggiando e lavorando e quindi prendo un volo a 25 euro per Fuerteventura di quest'isola me ne innamoro per il surf, per il clima bello che c'è tutto l'anno ma soprattutto noto che tantissimi ragazzi o persone hanno dei furgoni come questi o semplicemente dei furgoni con un letto dentro e dormono vista oceano la mattina si svegliano, vanno a surfare e fanno tutta questa vita così di lì me ne innamoro, torno in Italia e subito comincio a cercare un van in pronta consegna che avesse le specifiche perfette per me perché naturalmente dovendoci lavorare mi serviva tanta corrente e soprattutto ero da solo e mi piace essere discreto quindi la cosa migliore era un 5,40 quindi su quello lì non ci ho proprio pensato due volte c'erano varie marche disponibili e alla fine mi è capitato questo pilota perché era quello più bello esteticamente che mi piaceva e soprattutto che costava di meno che non è una cosa da poco per quanto riguarda tutta la mia storia e il resto per chiunque fosse interessato ve lo linko qui in alto comunque compro questo van a settembre 2021 se non ricordo male a ottobre mi viene consegnato il primo giorno ci vado a dormire direttamente dentro avevo già preparato tutte le mie cose, la mia fortuna è che sono molto minimalista quindi ho veramente poche cose, anche i vestiti dopo vi li farò vedere sono molto molto essenziali in base poi alle stagioni quindi prendo il mio van, ci comincio a vivere a Roma i primi giorni scopro i primi problemi, li faccio risolvere, cerco di capire cosa mi serve tante cose che avevo le tolgo perché capisco che nel van sono inutili tanti utensili per la cucina, pentole mi accorgo che mi serve veramente poco per vivere, ancora di meno di quello che avevo prendo il van e parto alla volta del nord Europa lì ho i primi problemi con il freddo che vi spiegherò dopo viaggerò tantissimo, ho fatto oltre 26.000 km ad oggi torno a nord Europa, Spagna, Portogallo torno in Italia, faccio il giro d'Italia poi il van ha di nuovo problemi quindi sono costretto a rimanere un mese senza van e parto in aereo per girare Tailandia e Vietnam torno in Italia, il van mi dicono che è pronto spoiler, non era vero ancora tantissimi problemi e parto direzione Marocco, è un mese che sono in Marocco di cui due settimane o tre settimane nel deserto del Sahara infatti qualcuno se ne sarà accorto forse dall'ultimo video ma sono attualmente nel deserto del Sahara in un piccolo paesino sperduto infatti sono l'unico quella che vedete è una cash bar, un'abitazione tipica che c'è qui in Marocco e sto facendo tantissimi video che per chiunque fosse interessato li vedrà prima di questo e soprattutto dopo che saranno secondo me quelli più belli del canale per quello che sono riuscito a vivere questa è in breve la mia storia con il mio van come vi ho detto alla fine vi dirò le considerazioni finali se sono felice di questa vita, se tornando indietro non lo comprerei se vorrei venderlo e tantissime altre cose però ora passiamo alla cosa più importante cioè farvi vedere il van il van come vi ho detto è un Pilot 540 su base Fiat è un 2.3 140 cavalli da questo punto di vista io sono felicissimo cioè sicuramente di meno l'avrei sofferti ma 140 cavalli per me sono più che sufficienti forse qualcosina in più ti aiuta ma sinceramente non ne ho sentito tantissimo l'utilità di avere uno dei cavalli maggiori il mio non è 4x4 e su questo sì perché specialmente qui in Marocco avere un van 4x4 ti salva per andare in alcuni posti ma soprattutto per uscirne sono rimasto infatti impantanato qui uno o due volte dopo la tempesta di sabbia che ho attraversato e una volta forse la peggiore in Sardegna dopo un alluvione che mi ha tirato fuori un camion innanzitutto vi faccio vedere com'è l'esterno del van cioè quali sono gli accessori esterni il primo che vi faccio vedere è questo qui questa è l'apertura e la chiusura delle acque grigie cioè quando ti fai la doscia o lavi i piatti o ti lavi le mani l'acqua defluisce in un contenitore si chiamano acque grigie che poi all'occorrenza vengono svuotate quando si è in un camping o comunque in aree attrezzate la seconda parte che vi faccio vedere è questa qui come si legge da questo simbolo qui va ricaricata l'acqua infatti c'è una chiave si mette si apre con un tubo si ricarica l'acqua la capacità è di 100 litri di acque pulite che mi serviranno appunto per la doccia e per lavare le mani e via dicendo quella lì se non ricordo male è sempre 100 litri questo serve per ricaricare il van con la 220 non lo utilizzo quasi mai perché le batterie del van si possono ricaricare con la luce solare come sta facendo adesso con la 220 attaccando la 220 ma soltanto nei campeggi e l'ultimo moto è con il motore cioè camminando il motore genera energia per ricaricare queste batterie qui abbiamo l'uscita della truma la truma mi serve come riscaldamento in questo caso è a gasolio quindi tramite una pompa pesca il gasolio dal serbatoio dove lo prende anche il motore e serve sia per riscaldare l'ambiente quindi d'inverno se hai freddo ma sia per riscaldare l'acqua l'ultima parte che vi faccio vedere è questa qui sempre con una chiave che è la stessa dell'acqua si ha accesso alla cassetta questa cassetta è quella delle acque nere cioè semplicemente quella del bagno quando va il bagno viene scaricato tutto in questa cassetta che poi anche qui viene scaricata nei camping l'ultima cosa esterna è questa qui è l'uscita dell'aria dell'aspiratore vi spiegherò meglio perché ho un aspiratore nel van perché di solito non ce li hanno i camper o i van nell'aspiratore sempre all'esterno ho questo che è uno scalino elettronico lo utilizzo zero praticamente che si apre e si chiude e serve a diminuire questa distanza ma assolutamente se ne può fare a meno ora entriamo e vi faccio vedere la cabina di guida allora questa è la cabina di guida di un classico Ducato non cambia assolutamente nulla se non per delle piccole cose il primo è questo sono degli oscuranti che ti permettono di avere privacy o magari per coprire la luce come nel mio caso per non avere problemi con lo schermo un'altra cosa che ho in più degli altri furgoni è questo questo è un accessorio che ho fatto montare e sono delle sospensioni elettroniche cioè posso come in questo caso sgonfiare le sospensioni o quest'altro con il motore acceso vedete? gonfiare quindi le sospensioni a quale scopo? per livellare come in questo caso io sono pendente dalla parte sinistra quindi sgonfiando una parte e gonfiando in un'altra riesco a essere in piano anche qui ho gli oscuranti li sto chiudendo per farvi vedere una cosa un altro accessorio che ho montato secondo me fondamentale che raccomando a tutti è questo cioè accendendo il motore e inserendo la retromarcia questo anche l'ho fatto montare ho la videocamera posteriore che mi serve naturalmente per i parcheggi come vi sarete accorti io viaggio solo quindi tutta questa parte qui è inutilizzata e la utilizzo un po' come deposito questo è il Tajin lo uso per cucinare è una pentola classica della cucina marocchina ho le scarpe i vestiti attrezzatura fotografica un po' di tutto piccola curiosità se magari qualcuno vuole saperlo qui ho una torcia delle cose da mangiare per l'emergenza qui ho il kit d'emergenza che mi serve per salvare sia me che persone in difficoltà ho fatto vari corsi a riguardo e veramente queste cose salvano la vita alle persone e qui ho mascherine in realtà ora non servono quasi più forbici per tagliare i vestiti sempre in caso di emergenza un'altra lampada dei guanti e un po' di tutto passiamo ora alla parte dietro cioè dove vivo facendovi vedere la prima cosa che è di diverso un camper da un furgone cioè che i sedili si possono girare infatti questa è la mia postazione principale ci mangio ci lavoro ci faccio veramente tutto ci scrivo ci studio questi sedili si girano vedete in questa maniera e qui si ha un tavolino questa zona nel gergo si chiama dinette piccola cosa anche questo sedile si gira si apre questo tavolinetto e si può mangiare in due persone io questo lo utilizzo in questa maniera per lavorare dopo vi faccio vedere come il tavolino è regolabile in base a come volete stare voi il van ha quattro finestre totali tutte con zanzariere come in questo caso si ha naturalmente il portello che si apre e si chiude è leggermente oscurato se si vuole invece privacy totale come davanti si ha questo ne ho un'altra qui che è molto grande e due lì giù mentre l'ultima che anche questa qui è diversa dagli altri camper ha sempre retina e oscurante questa è diversa perché io qui sopra ho un altro letto ma questo anche ve lo spiegherò dopo vi passo invece a spiegare tutti i mobili che ho qui tengo tutta l'attrezzatura fotografica le cose che mi servono per lavorare infatti vedete mouse e via dicendo questi sono i miei quaderni perché sto studiando arabo quindi questo qui è diciamo l'angolo tecnologico del mio van mentre qui anche questa qui si apre con questi pulsanti naturalmente per evitare che si apra tutto quanto in viaggio qui tengo le scorte di cibo ecco ad esempio lo scottex quindi in caso di emergenza ho sempre del cibo qui vedete un altro accessorio ne approfitto per farvelo vedere questo l'ho comprato la scorsa estate devo dire che l'ho usata solo una volta costato circa 50 euro pessimo acquisto questo qui non credo che serva veramente a nulla ve l'avevo fatto vedere in un video vi faccio vedere brevemente come funziona collegamento da 12 volts e è semplicemente un mini ventilatore con la possibilità di impostare un orario 2, 4, 6 ore e poi si spegne automaticamente di avere una luce e un'altra funzione che da quello che mi ha detto però mio padre non ha veramente senso si mette il ghiaccio qui dentro e quindi manda anche un vapore freddo ma il problema è che questo aumenta anche l'umidità all'interno e quindi peggiora la situazione devo dire che non l'ho sfruttato al massimo perché io sopporto molto il caldo però effettivamente devo sfruttarlo meglio per dirvi se ricomprerei o no però ad oggi non avendolo sfruttato non credo che sia stato un ottimo acquisto comunque lo tengo sempre per emergenza sempre per i cassetti ci giriamo da questa parte ho un tavolo estraibile che serve per preparare le cose da cucinare lì dove tengo tutti i saponi qui abbiamo dove tengo tutte le forchette utensili per cucinare il tagliere il panno per asciugare i piatti e tante altre cosine anche questo qui strautilizzato qui ci tengo un po' di riserve riso pasta un po' di tutto mandorle l'ultimo se vedete questo qui è rotto dopo vi spiegherò sempre perché quando vi parlerò dei problemi qui invece tengo le pentole che poi in realtà è una, due pentole e qualche contenitore questo invece è sempre pieno è anche uno di quelli che utilizzo di più qui ho tutte le cose che mi servono per cucinare olio, sale, spezie aceto balsamico questa che serve per non far bruciare il tavolino l'ho comprata qui in Marocco tavagliette un po' di tutto secondo cassetto sempre per il cibo o meglio per tè tisane e via dicendo ho delle ciotole qui c'è il tè Marocchino bicchieri Marocchini ho una candela profumata ultimo questo ho utilizzato un po' di meno tengo tutti i miei libri e un asciugamano di riserva di qua invece abbiamo dove tengo i vestiti questi qua per chi mi segue li conosce sono delle frasi che ho letto in alcuni libri o che mi hanno scritto alcune persone qui tengo i vestiti questi sono tutti i vestiti che io ho estate e inverno è molto poco ma come vi ho detto sono molto minimalista da questo punto di vista dato che ci siamo vi faccio vedere il letto trovate qui lo schermo questo schermo lo utilizzo per lavorare e lo metto qui perché è l'unico posto che è in sicurezza e se anche ci sono scossoni o il resto non mi si rompe l'ho spostato per farvi vedere tutto il letto non è molto grande ma io essendo da solo va più che bene qui non ho cassetti se non questo qui in cui tengo la penna il diario e i vari libri che sto leggendo in questo periodo un'altra cosa particolare che ho nel letto a portata di mano è una delle cose diciamo che vorrei non avere ma che servono a volte ho un coltello allora questo qui non l'ho mai utilizzato e né mi è mai servito però mi è nata l'esigenza quando sono stato in nord Europa in alcuni posti dove ho dormito in cui veramente non erano bei posti non mi sentiva al sicuro in realtà questo non ti salva la vita ma dato che io qua dentro ci vivo se succede qualcosa trovo qualcuno nel van o sento dei rumori almeno qualcosa per difendermi o perlomeno per spaventare qualcuno e metterlo in fuga chiunque mi segue sa che sono un pacifista e tutto quanto ma credo che chiunque si trovasse qualcuno dentro casa propria non sarebbe felice di questo alzando il letto anche qui ci sono dei scompartimenti questo lo utilizzo per le cose che mi servono raramente o per i souvenir in modo tale che non si rompano ce n'è anche un altro da quella parte ma lì c'è la bomba dell'acqua quindi non ci metto mai nulla ce n'è anche un altro da questa parte qui dentro ci metto più che altro vestiti ho i due corani che mi hanno regalato un set di bicchieri da vino e altre cose che anche qui utilizzo veramente poco passiamo ora però al bagno classico di un van eccolo qui devo dire che per quanto riguarda il bagno non ho grandi problemi per me è assolutamente perfetto non è né troppo piccolo né troppo grande qui come vedete ho uno specchio e qui ne ho un altro che però non utilizzo mai in realtà non ho capito a cosa serva anche qui ho due piccoli scaffali in ordine ho la cassa per sentire la musica quando voglia ho il caricatore dello spazzolino elettrico tutte le cose che mi servono ad esempio schiuma da barba lametta e via dicendo qui ho il mio spazzolino elettrico un altro per emergenza perché ad esempio ora ho le batterie scariche quindi quando non riesco a ricaricarlo utilizzo questo qui saponi vari e via dicendo altra cosa interessante sempre scomparsa qui abbiamo un piccolo lavandino che si utilizza staccando questo e mettendolo qui dentro quindi se si vogliono lavare i denti ad esempio questo qui lo utilizzo per fare la barba perché c'è lo specchio qui abbiamo il wc praticamente è molto semplice il funzionamento qui come vedete c'è un bottone e serve a scaricare l'acqua c'è una piccola poppa che porta l'acqua per avere accesso alla cassetta si spinge questa leva in cui si apre e si chiude molto semplice vi dicevo che sono uno dei pochi che ha l'aspiratore semplicemente perché qui c'era una finestra se vedete infatti c'è un riquadro ma questa finestra non c'è più perché qui sopra c'è un letto quindi la finestra è sparita e ho dovuto mettere l'aspiratore ultima cosa che vi faccio vedere c'è anche questo qui per attaccare l'asciugamano o la cappa dovio per poi asciugarlo anche il bagno l'abbiamo visto naturalmente c'è la luce vi spiego un secondo il discorso luci ho uno due lì ci sono anche due luci lì in alto ma che servono più che altro per il cavone che non ho mai utilizzato come vi ho detto luce al bagno una luce qui sotto un'altra luce qui vedete si accende da qui e basta queste sono le luci qui invece abbiamo la cucina uno e due qui abbiamo il rubinetto che è regolabile acqua anche qui calda o fredda a seconda delle esigenze ma naturalmente se è stata scaldata in precedenza due fuochi piccolo grande questi funzionano come i normali fornelli di casa si spinge la manopola per far uscire il gas e poi scintilla e abbiamo i fuochi premessa questa è l'unica cosa che va gas nel mio van il resto è tutto o elettricità o gasolio passando invece qui sotto che è importantissimo abbiamo il frigo allora il mio frigo non ricordo da quant'è credo che sia 60-70 litri come vedete è molto piccolo ma per una persona va più che bene lì c'è il prezzemolo utilizzato per il tajin che sta andando a miglior vita spezzi per il tajin come vedete il mio frigo è vuoto ma semplicemente perché qui faccio la spesa tutti i giorni ho soltanto un po' di frutta e il congelatore che mi sta dando tantissimi problemi vedete lì dal ghiaccio se ve ne accorgete ma anche questo qui ve lo dirò dopo è un po' di carne e un po' di verdura sempre per l'emergenza passiamo a un po' di tecnologia qui come vedete avete tre schermi il primo mi mostra quante batterie ho e a quanto stanno ricaricando in questo caso sono molto scarico oggi purtroppo ho le batterie al 34% e stanno ricaricando a 3.8 ampere mi stanno ricaricando perché io qui sopra ho due pannelli solari da 120 ampere ne vorrei aggiungere un terzo perché purtroppo come vedete sono sempre scarico perché utilizzo l'inverter e questo schermo che mi consuma veramente tanto senza contare che ho due computer due telefoni uno per lavorare uno personale macchine fotografiche e via dicendo i pannelli solari ricaricano due batterie dal 100 ampere litio anche questo qui in realtà è tantissimo per una persona normale per me è normale tendente al poco infatti ne vorrei aggiungere un'altra per avere ancora più autonomia così con un buon sole ho circa 3-4 giorni di autonomia massimo e non utilizzando sempre l'inverter altrimenti un giorno e mezzo massimo qui ho un altro schermo che mi dice che ho le acque pulite al 100% e le acque sporche cioè le acque grigie quelle che defluiscono da qui e da lì al 25% qui ho i controlli generali per staccare tutte le prese di corrente per staccare l'acqua e staccare la luce qui mi dice come sta caricando in questo caso sto caricando dai pannelli solari ma non ho idea di perché non me lo segni qui se stai ricaricando dal motore è illuminata questa spia e qui se invece si è attaccata alla 220 questa è la tensione attuale della batteria ultimo schermo che vi faccio vedere è questo qui questo serve per il riscaldamento infatti in questo caso se si spinge una volta si imposta la temperatura che si vuole e si riscalda piccolo spoiler anche qui un problema come vedete manca la maniglia semplicemente perché con la maniglia non si riesce a spingere questa cosa è veramente imbarazzante però l'ho scoperta il primo giorno il riscaldamento nel mio caso può andare come vedete da questa cosa o a diesel o misto diesel elettricità soltanto se si è attaccato alla 220 o solo elettricità sempre solo attaccato alla 220 perché altrimenti non ce la fa quindi se si vuole risparmiare si sta attacchiando però alcune persone mi hanno detto che il funzionamento a gasolio è molto potente e va bene per temperature anche molto molto fredde mentre se si mette elettricità e fa molto freddo non ce la fa il van a riscaldare abbiamo naturalmente anche il boiler in questo caso con l'acqua calda che serve se ti vuoi fare la doccia vi dico un'altra piccola curiosità che magari chi è un van già lo sa il boiler non si ha necessità di accenderlo se c'è riscaldamento acceso questo perché l'aria calda passando vicino ai tubi li riscalda senza aver bisogno di aggiungere ulteriore consumo per riscaldare il boiler a tal proposito chi mi segue sempre già lo sa io faccio le docce fredde quindi praticamente non l'utilizzo mai il boiler l'ho usato forse una volta o due all'inizio per capire come funzionasse ma la cosa più interessante sto veramente trovando utile in inverno cioè un timer imposto l'orario imposto la temperatura e ad esempio prima di svegliarmi trovo il van caldo o magari si esce a fare la spesa si rientra e si trova il van caldo questo è veramente veramente molto interessante così come il discorso della truma elettrica infatti la mia è una truma oltre a gasolio anche elettrica e è perfetta perché come vi dicevo è perfetta se uno vuole risparmiare perché si attacca a nodo e venti di un campeggio o magari io quando sono a Roma trovo una presa mi collego e non spendo tantissimi soldi in gasolio per quanto riguarda la truma a gasolio io sono perfettamente felice di averla non vorrei quella a gas perché ad esempio in Marocco o all'estero poi è difficile trovarlo mentre tu neanche ci pensi a questa cosa perché tutto il riscaldamento è alimentato dal gasolio e il gasolio viene preso dal serbatoio del van quindi non ho nessun problema basta che metto gasolio il gasolio lo trovi ovunque e stai a posto quindi per quanto mi riguarda io la consiglio a tutti quanti la truma a gasolio poi se potete questa è anche elettrica secondo me è anche un passo in più parlando di consumi vi faccio vedere la mia postazione vedete questa è la mia postazione al completo ho la testiera ho il mouse questo è il mio mac che utilizzo per montare i video ho comprato questo piccolo dispositivo che attaccandolo alla presa usb attraverso un cavo hdmi l'inverter che è lì sotto dopo ve lo faccio vedere lo collego qui e ho uno schermo come a casa come in un ufficio e che mi permette quindi di lavorare ovunque ho fatto questo groviglio di cavi per lasciarli attaccati in modo tale che anche se devo partire velocemente stacco uno due questo qui semplicemente lo rimuovo lo lascio qui e posso partire anche la tastiera stessa io la incastro qui dietro vedete dopo un anno e mezzo ho trovato comunque le posizioni perfette e posso viaggiare un po' ovunque tanto per farvi vedere i consumi attualmente con frigo acceso se sentite il rumore inverter acceso nulla a caricare se non la GoPro sto solo a 1.3 sto caricando a 1.3 se stacco tutto quanto andiamo a 7A quindi consumo circa 5A capite bene che è tantissimo motivo per cui sto sempre con le batterie scariche che poi in realtà non è che consuma tanto consuma tanto perché io lo utilizzo 8 ore al giorno per il mio lavoro più l'editing questo infatti è il motivo principale per cui sono sempre scarico come vi ho detto infatti vorrò aggiungere un altro pannello solare un'altra batteria e un altro dispositivo che mi permette di ricaricare più velocemente le batterie quando siamo in movimento infatti se ricordate prima vi ho detto che tutte le batterie si possono ricaricare anche in movimento questo piccolo dispositivo che si chiama DCDC permette di invece di ricaricare a un tot di ampere me ne ricarica al doppio o al triplo quindi una batteria invece di ricaricarla in 3 ore di viaggio la ricaricherei anche in un'ora a tal proposito un'altra domanda che mi fate sempre è come faccio con internet ho una scheda in ogni posto che vado tra l'altro lì sopra in quello che ho chiamato angolo tecnologico ne avrò 5-6 di tutte le parti del mondo quindi faccio una sim locale in più ho questo telefono con il numero italiano che in emergenza posso collegare quindi in realtà è molto semplice come faccio con internet una cosa che sicuramente vorrò fare è comprare l'alterna di Elon Musk che ormai è diventata famosissima anche nel mondo dei camper e ovunque vai anche se sei sperduto nel deserto ti colleghi con il satellite e hai una connessione potentissima che a me farebbe veramente tanto comodo però costa 100 euro al mese quindi al momento rimane dov'è per quanto riguarda il discorso sempre elettrico qui ho 4 prese USB 2 e 2 una presa accendisigari poi ne ho anche altre 2 qui che sono collegate al letto di sopra che fra poco vi faccio vedere qui ho un'altra presa accendisigari e ho le ultime 2 qui vicino al letto che mi permette di ricaricare l'iPhone quando sono a dormire ultima presa invece l'abbiamo qui dove eccola qui una presa a 220 che non utilizzo praticamente mai come vi ho detto ho un altro letto qui sopra ora ve lo faccio vedere tramite questi due ganci che si aprono vedete prima questi e poi questi qui che sono già sganciati vedete da questa parte e con una pressione si spinge e si ha a disposizione un altro letto veramente ma veramente grande molto molto più grande dell'altro ora vi faccio vedere dall'esterno come si presenta con la scusa vi faccio vedere anche l'uscita di servizio col portellone e anche un altro accessorio che però io utilizzo pochissimo cioè la zanzariera vedete si può avere la zanzariera per avere tutto libero questo è lo sportellone si chiude e come vedete questo è l'altro letto anche qui si hanno tre finestre una lì laterale questa è la più bella che è frontale quindi ad esempio si ha tutta la vista sulle dune quando si va a dormire e l'ultima che è soltanto una zanzariera si ha da questa parte altro piccolo segreto che ho scoperto andando avanti con il tempo il tetto a soffietto lo utilizzo poco se non d'estate ma mi serve veramente tanto per una cosa che alcune persone non pensano infatti forse da qui si riuscirà a vedere se vedete in alto ci sono dei pannelli solari che cosa succede come vedete noi abbiamo aumentato l'inclinazione del van e quindi di conseguenza anche quella dei pannelli solari quindi il van primo era così e riusciva a prendere un tot di sole cosa succede il sole ora è attualmente qui perché è circa l'una e mezza di pomeriggio si sposterà si sposterà fino a che arriverà da questa parte alzando il tetto a soffietto si riesce a prendere una maggiore quantità di luce quindi le batterie mi ricaricano molto molto più velocemente un piccolo trucco che in questi giorni ad esempio mi sta permettendo di avere molta molta più autonomia senza di questa cosa qui avrei dovuto chiedere a qualcuno di attaccare alla 220 quindi anche questa qui una cosa veramente molto interessante vi faccio vedere questa cosa dei pannelli al momento stiamo ricaricando a 5A il tetto a soffietto è chiuso io lo apro e guardate stiamo ricaricando a 6,9 capite 2A di differenza che nel mio caso è tantissimo dato che siamo fuori vi faccio vedere anche un'altra parte che ancora non abbiamo visto cioè la parte posteriore infatti il mio van ha un gavone molto molto grande che attualmente è molto molto pieno purtroppo qui si vede anche bene tutto il letto vedete qui qui ho l'accesso alle bombole nel mio caso ne ho solo una come vedete cascano cose perché purtroppo poi in ogni posto cerchi di mettere qualcosa ho una bombola molto grande che vi dico senza problemi io ci faccio anche un anno e un anno e mezzo di autonomia perché come vi dicevo il gas l'utilizzo soltanto per cucinare e sono da solo qui ho sempre varie attrezzature zaini l'occorrente in caso di incidente sperando che non mi servirà mai mentre di qua come vi dicevo quando prima vi parlavo di un accesso che c'è appunto qui dietro è alla pompa questo che vedete blu infatti è il serbatoio delle acque chiare e qui dietro nascosta da tutte le cose c'è la pompa dell'acqua il gavone è molto grande ho tratto questa per farvelo vedere ultima cosa da farvi vedere nel gavone qui dentro come vedete c'è uno sportello ora non so se riuscirò ad aprirlo sì e qui c'è la truma lì dentro non ho messo nulla per non rischiare di rompere ogni anno porto sempre meno cose infatti quello che vedete qui nel gavone è tutto ciò che per me è essenziale cioè qui dietro ho panni sporchi e lo skate che mi serve per spostarmi il cavo che mi serve per collegarmi alla 220 tubo dell'acqua ho una pentola dietro e quest'anno ho aggiunto un'altra cosa molto molto particolare che non credo nessun altro abbia in Italia o forse neanche all'estero in un van da questo nuovo anno il 2023 quindi sono già passati 6 mesi ho deciso che volevo portare la mia vita in van a essere una vita normale ero riuscito a fare tutto quanto tranne una cosa me l'avete sentito dire spesso nei video cioè l'allenamento e infatti quest'anno prima di partire per il Marocco ho comprato questa struttura componibile su Amazon costo 100 euro ve lo metto anche in descrizione per chiunque volesse comprarlo è stata in realtà una salvata all'ultimo perché non riuscivo a capire come avere una struttura per fare ad esempio le trazioni o altri allenamenti che fosse comoda e che non desse fastidio al van ho trovato questa qui che è veramente veramente perfetta e inoltre ho sempre due pesi componibili che anche questi qui utilizzo per allenare questa struttura naturalmente si può utilizzare in vari modi per questo secondo me è perfetta vedete così per fare le flessioni si possono fare trazioni parallele veramente di tutto parliamo ora invece della parte più difficile cioè tutti i problemi che ho avuto in questo anno e mezzo e ve lo dico già sono veramente ma veramente tanti sicuramente qualcosa mi scorderò a tal proposito se volete farmi domande qualsiasi cosa scrivetela nei commenti se mi sono dimenticato di dire qualcosa e vi risponderò senza problemi anche nel caso sia qualcosa veramente di complicato ci farò anche un video a riguardo scusatemi se mi dimenticherò qualcosa ma questi video per me sono veramente difficili perché tutte queste informazioni le ho accumulate durante un anno e mezzo quindi magari alcune cose per me sono scontate invece giustamente voi vorrete vederle quindi scusate in anticipo ma un'altra cosa importante che non vi ho detto uno dei problemi principali che secondo me nella vita del van non è tanto in inverno perché si accendono i riscaldamenti ma in estate io in estate ho vissuto veramente momenti terribili perché qui dentro siamo arrivati a 50 gradi e pensate che mi si è stappata da sola una bottiglia di vino qualcuno se lo ricorderà e ancora mi prende in giro per questo ho completamente sporcato tutto il van di vino rosso l'avevo lasciato qui dal mio viaggio in Sardegna un cannonau e ho scoperto poi con una mia amica enologa che il vino ad altissime temperature si stappa da solo un vino rosso e non un vino frizzante e infatti il mio problema principale è che lavorando di notte mi capita di dormire di giorno e di estate questo non si può fare ho infatti passato a volte intere settimane senza dormire dormivo a massimo una o due ore la mattina dalle sei e mezza fino alle otto poi il caldo torrido mi svegliava quindi assolutamente se voglio continuare a viaggiare in posti caldi dovrò mettere un condizionatore o qualcosa che mi permetta di dormire di giorno altrimenti per me sarà veramente la fine a meno che non cambia lavoro però anche sempre ricollegata a questo qui se devo mettere un condizionatore devo aumentare per forza la mia capacità di carico delle batterie primo problema zanzariera usata una sola volta rotta ho scoperto poi dal concessionario che mi ha venduto il van che si è rotta a tutti quindi questo problema ce l'hanno avuto veramente tutti un altro problema che mi è successo proprio oggi è lo scalino elettronico questo qui che avete visto prima infatti con questo bottone vedete si apre e si chiude oggi è andato in blocco vedete fa questo suono e se io provo a chiuderlo o aprirlo è bloccata ma anche questo scalino l'ho utilizzato pochissimo perché una volta che sono partito si è bruciato il fusibile non so per qual motivo e quindi non l'ho più potuto utilizzare finché non sono tornato in Italia sempre su questa parte ancora problemi continuo ad avere acqua all'interno quando piove qui quando piove si riempie completamente d'acqua con conseguente aumento dell'umidità all'interno del van e anche questa qui l'ho portato in riparazione tre volte di cui un mese l'ultima volta mi hanno detto che era stato riparato invece continuo ad avere acqua e anche qui vedete entra acqua dallo sportellone me ne sono accorto per caso perché come tutti sapete ho attraversato questa tempesta di sabbia era rimasta sicuramente un po' di sabbia sopra con la pioggia è entrata l'acqua è rimasto il residuo quindi ho potuto accorgermi che qui ancora entra l'acqua quindi sia dalla finestra che dal portellone e infatti si vedeva anche da lì dietro un altro problema che ho avuto questo però non c'entra nulla con Pilot ma con il concessionario chi ha venduto i pezzi come vi ho detto prima ho le sospensioni elettroniche e una era difettosa cioè si sgonfiava mentre ero in viaggio quindi anche questa qui i primi mesi non l'ho praticamente mai utilizzata perché era sempre sgonfia sempre da questa parte ho avuto problemi con questa presa a 220 anche questa qui mai funzionata l'hanno riparata adesso dopo un anno e mezzo ora mi stanno venendo a valangra tutti i problemi che ho avuto questo forse è stato il più grave per i danni che mi ha portato ora vi spiego tutti i pensili all'interno del van questo l'ho detto già in un altro video hanno un dispositivo di sicurezza perché se fossero come i normali pensili di casa nel caso si mette un oggetto pesante all'interno si fa una curva l'oggetto spinge sullo sportello e te lo apre quindi che cosa hanno fatto nei camper come vedete infatti ora sto tirando ma non esce qual è il segreto di van? è molto semplice hanno inserito questa leva che nel caso si spinga si riesce ad aprire vedete però se tu non spingi questa leva e tiri non si apre qual è il problema? mi hanno venduto questo camper nessuno ha controllato che naturalmente queste cose funzionassero non era stata regolata bene questa cosa quindi questo sportello si apriva come un normale sportello di casa io ho preparato il van per questo viaggio appena l'ho comprato ho messo il computer il mio mac all'interno perché era il posto più vicino e più sicuro inoltre come vi ho detto insieme a tutto il resto delle mie cose tecnologiche ho fatto la prima curva questo si è aperto il mac è uscito fuori mi ha bucato il tavolino poi mi è stato riparato il tavolino mi ha spaccato questa maniglia e mi ha bucato il pavimento inoltre mi ha anche distrutto lo schermo del mac che nessuno mi ha riparato così come nessuno mi ha riparato il pavimento e nessuno mi ha riparato la maniglia l'unica cosa che poi mi è stata riparata che è totalmente inutile come la riparazione in realtà del pavimento perché è soltanto una cosa visiva è il tavolino per farvi capire bene il problema dei sportelli ve lo faccio vedere con questo qui perché guardate qui c'è sempre quel dispositivo però se io tiro si apre vedete senza fare forza io sto facendo con due dita perché questo qui non è stato riparato infatti se vedete si muove quindi tutto totalmente inutile con tutto che qui sotto c'è uno spessore e sapete infatti quante volte mi è cascato l'olio l'aceto queste cose qui e qui ho dovuto pulire ogni volta è successo almeno 5-6 volte ma almeno mi fermavo perché sentivo odore di aceto o di olio e scoprivo che si era spaccato tutto quanto ci sono delle cose veramente che a me non danno senso poi stiamo parlando di cose leggere non è che ci sto mettendo cose pesanti c'è una bottiglia d'olio che guardate è piccolina la tengo con un dito scusate se ogni tanto cambio tono ma perché dopo un anno e mezzo continuo a avere problemi poi riparleremo bene dopo e nessuno vuole risolvere questa cosa o meglio nessuno sa come risolverla comunque finisco di parlarvi dei problemi e poi vi dirò che cosa sta succedendo che cosa voglio fare verso pilota ci sono anche di mezzo degli avvocati comunque ora vi spiego tutto quanto un altro problema recente siamo al bagno guardate che vi faccio vedere questo qui dopo neanche sei mesi si è rotto vedete si è sganciato ci sono tre viti che lo reggono ma non funziona più quindi che cosa è successo avevo il doccino messo qui sopra come naturalmente in viaggio ho fatto una curva si è sganciato perché vedete questo si muove è cascato per terra mi si è spaccato il doccino altri soldi per comprare il doccino sempre al bagno perché questo naturalmente questo van è fatto su alcune cose veramente male ma male 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 vedete qui c'è del silicone ma questo silicone prima non c'era quindi le prime volte che mi sono fatto la doccia cosa succedeva io mi facevo la doccia e trovavo tutta acqua che arrivava qui e finiva lì giù tutto perché nessuno aveva siliconato questa parte e c'era una perdita dal tubo quindi due problemi in uno che mi hanno completamente allagato il van e in alcuni punti il pavimento si sta alzando perché naturalmente ha preso due o tre mesi di umidità questo qui ha anche portato in riparazione e questo sono riuscito a risolverlo un altro problema è che io sono stato un anno e mezzo senza questa zanzariera perché questa zanzariera era rotta quindi io in realtà non pensavo neanche che ci fosse e invece questa zanzariera era bloccata e qui sopra è stata riparata un mese fa sempre per quanto riguarda le zanzariere come vedete lì sopra c'è un'altra zanzariera praticamente è che l'oblò è stato montato senza le guarnizioni e fin qui nessun problema passa un po' d'aria dalle 5 di notte mi alzo che sento rumori di zanzare mi guardo addosso ero tutto completamente pieno di bolle di zanzare pensavo che fosse un incubo invece poi mi guardo e intorno a me era una completa distesa di zanzare che cosa ho scoperto che questa guarnizione non è stata messa quindi oltre a far passare l'aria faceva passare anche le zanzare e vi parlo di oblò chiuso non aperto quindi la soluzione è stata fare tutto il viaggio ogni volta con la zanzariera inserita come adesso con tutto che l'oblò fosse chiuso per non far entrare altri animali 6 mesi un anno con la zanzariera sempre aperta succede questo se vedete infatti la zanzariera è completamente molle immagino che entro un paio di mesi si romperà anche questa qui e io starò senza zanzariera quindi non potrò più aprire lo sportellone perché in questo caso o è pieno di zanzare o qui in Marocco pieno di mosche ho ancora tantissimi problemi da spiegarvi penso che questa parte dei problemi sarà più lunga del vantoro in generale ultimo problema che ho anche questo qui tenuto per tanto tempo era l'acqua aprendola così non aveva un flusso continuo si indiozzava e da quello che ho capito che mi ha detto il concessionario dopo averla riparata era un problema di pompa un altro problema con l'acqua anche questo qui gravissimo perché io sono in Marocco ora ci sono 25 gradi siamo a marzo e va tutto bene ma se ora fossi stato in nord Italia o semplicemente in Abruzzo vicino casa sulla neve ora stare senza acqua perché non si sa per quale motivo a meno 2 meno 3 gradi io non ho più acqua dentro prima hanno trovato un tubo che passava all'esterno e poi deve essere quello lì hanno sistemato questo tubo e niente il problema continua l'ho portato 3 volte questo qui riparazione così come ho portato 3 volte riparazione la danzariera l'ultima volta sempre per un mese e il problema continua ad esserci veramente su queste cose io non so più che cosa fare non so di chi sia la responsabilità e sinceramente a me neanche importa perché l'unica cosa che mi importa che mi portino un van che funzioni infatti ora per la terza volta o la quarta io sarò costretto ad entrare in Italia nuovamente invece di proseguire il mio viaggio per fare delle riparazioni che io ho già richiesto quindi altri soldi per il gasolio altri soldi per il casello inoltre io qui dentro ci vivo quindi ogni volta che devo riportare il van in riparazione devo trovare un posto dove stare quindi spostare di nuovo tutte le mie cose fare il trasferimento poi di nuovo quando il van è pronto andare lì e prenderlo ma un'altra stupidaggine il posto dove io porto a riparare il van è molto distante da casa mia sono circa 30 euro di benzina a me quei 30 euro ma chi me li ridà poi posso capire se il problema c'è stato una volta o se è un problema nuovo ma se ogni volta riporto in riparazione il van è sempre per le stesse cose ma a me qualcuno mi dovrà rimborsare di queste cose anche perché fra poco vi dirò il prezzo non stiamo parlando di una macchina stiamo parlando di una casa altri due problemi che mi sono venuti in mente in realtà potete capire anche voi qual è il problema da questa cosa se guardate qui c'è scritto che c'è il 25% di acque sporche però in realtà non è vero perché quando vi ho fatto vedere è già aperta cioè non c'è acqua che usciva infatti anche questo qui portato per tre volte a riparare mi continuo a segnare le acque sporche a caso 0, 100%, 25, 50 un po' come decide lui ma in realtà adesso le acque grigie sono completamente vuote perché io l'ho scaricata da pochissimo anche su questo qui mi hanno bucato sotto il sensore mi hanno fatto veramente di tutto continuo a avere problemi c'è un altro problema questo qui fa veramente ridere questo qui neanche glielo ho detto perché è veramente inutile guardate qui c'è questa levetta che serve ad aprire appunto il tavolino beh qui non ci dovrebbe essere questo pirulino ma c'è una specie di maniglia ogni volta che tu avviti la maniglia questa qui con le vibrazioni non so perché se è fatta male se questo perno è troppo piccolo lui si perde ogni tanto l'ho perso ogni tanto l'ho ritrovato ora l'avevo riavvitato di nuovo ora si è perso nuovamente ma questa volta non lo trovo quindi è perso ogni volta devo prendere un pezzo di stoffa per tirarlo giù perché naturalmente guardate com'è piccolo non riesco con le dita ora piano piano mi avranno in mente altri problemi ma tantissimi me ne sono anche scordati capite voi che ho passato quanto gli ultimi 20-25 minuti a parlare solamente di problemi e non stiamo parlando solo di stupidaggini perché alla fine questo qui della manopola è una stupidaggine questo qui del 25% in realtà non è così grave non è che ti cambia completamente la vita ma il frigorifero l'acqua che mi continua ad entrare il problema con il freddo sulla neve queste cose qui sono cose gravi poi ultimo problema prima di passare al resto il frigorifero all'interno ora ci sono 15 gradi cioè il frigorifero non mi fredda con conseguente congelatore pieno 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 di ghiaccio l'ultimo anno ho buttato veramente tanta spesa neanche a parlarvi di soldi buttati per la carne perché aveva poi un odore ma soprattutto si vedeva che non era più buona perché nel caso di molto caldo dentro il frigorifero ci sono 16-18 gradi cioè è impossibile ma anche semplicemente in inverno quando si accende l'aria calda dentro il van ci sono magari 20-22 gradi e il frigorifero smette di funzionare la temperatura interna non è adatta a contenere dei cibi quindi si rovinano anche questa cosa qui ho contattato l'assistenza mi hanno detto la prima volta di andare il giorno dopo io gli ho detto che il giorno dopo non potevo perché lavoravo richiamati di nuovo spariti nessuno mi ha detto più niente piccola premessa per quanto riguarda i problemi con il van quindi per quanto riguarda l'allestimento ad esempio l'acqua tutte queste cose che ho avuto devo rivolgermi al concessionario e il concessionario fa le riparazioni e poi chiede i soldi a pilota per quanto riguarda Fiat quindi la meccanica e tutto il resto devo rivolgermi a Fiat su questo qui devo dire che non ho mai avuto problemi con Fiat se non una cosa mi si è rotto il sensore antiparticolato sempre in Sardegna portato in riparazione pagato tutto l'oro non ho avuto mai nessun altro problema tra l'altro servizio di Fiat pazzesco al telefono ti rispondono in qualsiasi parte d'Europa tu stia ti trovano il concessionario ti dicono dove andare ti prendo un appuntamento su questo qua devo dire tantissime persone parlano male di Fiat ma io non ho avuto veramente problemi su questo qui mentre ad esempio per il frigorifero non posso andare neanche al concessionario devo andare da Viti Frigo che mi pare che è così il nome della mia marca che a me hanno completamente ignorato comunque ora tornerò in Italia e lo farò rivedere di nuovo allora facciamo quindi delle considerazioni finali vi dico il prezzo del van mi è costato intorno ai 55.000 euro senza contare gli accessori quindi poi ho dovuto aggiungere tetto a soffietto due batterie a litio due pannelli solari telecamera posteriore e sospensioni elettroniche ho avuto anche un problema con il tetto a soffietto con il concessionario che me l'ha venduto quindi non c'entra nulla Pilot che mi ha creato poi gravissimi problemi economici dopo motivo per cui io tutti i mesi vado paro devo magari rimanere fermo in un posto per aspettare lo stipendio e tutte queste altre cose però di questa cosa qui al momento non ne parlo perché sto cercando di capire passo dopo passo come si sta svolgendo questa cosa del van quindi ai 55.000 euro circa di van se ne sono aggiunte altri 10.000 15.000 alla fine il van mi è costato 66.000 euro giù di lì inoltre io avendo 27 anni non sono ricco né di famiglia né lo ero prima né lo sono diventato nel corso della vita io ho uno stipendio normale quindi che cosa ho fatto ho richiesto un finanziamento per comprare il van perché infatti non ho una casa io qui dentro ci vivo e quindi ho richiesto un finanziamento per ammortizzare la spesa cioè tutti i mesi invece di pagare l'affitto per una casa lo pago per il van però ad esempio io nella mia stessa situazione economica non avrei mai comprato un van per fare magari due giorni o anche un mese l'anno con un van perché chiunque mi ha seguito anche nel mio viaggio in Thailand ha visto che io vado in ostelli mangio in posti locali non vado in posti per turisti dove si spende di più vivo la vita localmente e come un viaggiatore quindi spendo molto poco quindi non avrebbe avuto senso spendere 60-70.000 euro per un van e magari starci un weekend due weekend al mese o magari totale tre, quattro mesi l'anno per me non aveva assolutamente senso ho fatto questa scelta perché io ci vivo riesco a viaggiare e avere meno spese di quelle che ho in Italia perché ad esempio per quanto riguarda le bollette io non pago bollette perché le batterie le ricarico con energia solare con il movimento in più riesco a fare dei video riesco a fare quello che mi piace e soprattutto lavoro smart working quindi per me è la vita perfetta tornando indietro lo rifarei non due volte la farei cento volte questo all'infinito comprirei questo van? assolutamente no prenderei un'altra marca magari aspettando anche un po' di più non conosco bene le marche non sono un esperto di van sono un esperto tra virgolette di van life ma perché ci ho vissuto nel senso che so ormai gestire gran parte dei problemi so vivere dentro un van ma non mi ritengo assolutamente un esperto di van o cose del genere motivo per cui non faccio mai video tecnici difficile che do consigli ad altre persone perché io mi sento un eterno allievo non mi sento mai maestro non mi sentirete mai di dare consigli ad altre persone perché non ne ho le capacità né sono quel tipo di persona sono quello che magari ascolta prende consigli dagli altri ma è difficile che lo dà a meno che non è completamente sicuro di questa cosa poi appunto perché ho investito quei pochi risparmi che ho messo da parte negli anni e soprattutto tutti i mesi pago una rata quando ho visto che il van stava andando in declino cioè che le cose che andavano male erano molto di più di quelle cose che andavano bene e poi in realtà penso che sia soltanto l'estetica bella del pilot in confronto ad altri van secondo me è molto più bello ma per il resto veramente penoso da tutti i punti di vista quindi dopo che mi si è rotto il docino per questa cosa ma soprattutto che di nuovo mi rientrava l'acqua dopo che il van era stato un mese in riparazione in cui io non l'ho potuto utilizzare ma che comunque ho pagato la rata del van ho dato un po' di matto ho scritto al concessionario e tra l'altro pochi giorni prima mi aveva scritto un avvocato che vedendo video come questi in cui dicevo dei problemi si era offerto di seguirmi legalmente per fare causa a pilot per tutti i problemi che ho avuto perché secondo lui era inconcepibile che ci fossero tutti questi problemi e dopo un anno e mezzo perché vi ricordo che fra sei mesi mi scadrà la garanzia che dura solo due anni e io ho ancora tutti i problemi che avevo all'inizio quindi contatto il mio concessionario il concessionario non poteva dire niente se non hai ragione perché hanno fatto loro le riparazioni e il van ha ancora tutti questi problemi mi rimandano a pilot mi chiamo un commerciale di pilot ci mettiamo a parlare mi spiega un po' di cose e mi dice naturalmente hai ragione cioè capisco che ci sono questi problemi gli dico che questo avvocato mi ha detto di procedere illegalmente e lui mi dice testuali parole dillo pure nel video perché gli ho detto che l'avrei fatto poi su questa persona veramente nulla da dire brava brava persona lui in realtà poi non c'entra nulla col pilote lui è un commerciante quindi mi ha parlato proprio sinceramente e mi ha detto dillo proprio ma le persone quando fanno causa a pilot il pilote è contenta di questa cosa qui perché il primo problema è la giustizia italiana se vado a fare causa a pilot essendo anche loro francesi devono mettere l'avvocato italiano e via dicendo forse passeranno quanto 5, 7, 10 anni non si sa qual è l'altro problema è che se io vado in causa con pilot perché ad esempio non funziona il frigo perché nella finestra entra l'acqua e via dicendo io non posso più utilizzare quel prodotto perché naturalmente sei in causa se io sono in causa perché non funziona una cosa non posso andare in giro con il frigorifero quindi dovrei fermarmi dovrei smettere di viaggiare dovrei smettere di fare video tornare a Roma quindi stare in una stanza a lavorare quindi tutto ciò che riguarda l'infelicità perché come dico sempre nei video questo è uno dei periodi più belli della mia vita perché riesco a fare tutto questo inoltre se anche noi io e l'avvocato facciamo causa la vinciamo mi ha detto che massimo il perito mi riconoscerà 1000-2000 euro quindi succede tutto questo casino non viaggio tutto quanto per 1000-2000 euro il van fermo che io continuo a pagare le rate non lo utilizzo cioè capite bene perché poi una persona è delusa dal sistema italiano e da tutto quanto in primis da pilota perché uno il van ha tantissimi problemi se io fossi stato pilota avrei fatto guarda veramente di tutto per risolverlo ma per due motivi il primo che a prescindere un cliente scontento gli fa una cattiva pubblicità ma ancora di più ma perché io faccio video quindi io queste cose le dico pubblicamente e magari centinaia migliaia milioni non so speriamo persone che sentendo queste cose smettono di comprare pilota tra l'altro mi è successo recentemente sono in un gruppo molto famoso su facebook mentre scorrevo la home ho visto un ragazzo che chiedeva informazioni su pilota e una persona sotto gli ho scritto guarda c'è un ragazzo su youtube che ne parla malissimo non lo comprare non è che mi sono messo sotto a scrivergli hai ragione tutto quanto perché io non faccio queste cose per ripicca ma semplicemente perché se un mio amico un fratello qualsiasi persona mi chiede Manuel ma tu questo van lo ricompreresti io gli direi sinceramente no non lo comprare guarda su altro due perché l'azienda dopo un anno e mezzo se ne è completamente infischiata perché tu puoi avere tutti i problemi che vuoi ma poi un'azienda capisce che realmente c'è un problema fa di tutto per risolverli non fai finta di nulla o sei felice addirittura se uno ti fa causa ma di questo qui è inutile discuterne come sapete io sono una persona molto pacifica e ho capisco anche che non ha senso arrabbiarmi infatti quando cambio tono non è perché sono arrabbiato ma perché sono deluso ma alla fine sono felicissimo perché se non avessi preso questo van non avrei aperto questo canale non avrei vissuto tantissime emozioni forti però vorrei che queste cose prima che la garanzia finiscono siano tutte risolte e che dato che è un mezzo che costa veramente tanto che possa continuare ad utilizzare in tutte le situazioni in autonomia questo video sarà lunghissimo spero di avervi detto tutto in realtà sicuramente qualcosa me ne sono dimenticato ma questi video non sono preparati mi sono ricordato che vi avevo detto che l'avrei fatto ho trovato il posto giusto per muovermi per farvi vedere dall'esterno tutto quanto e l'ho fatto a tal proposito usciranno tantissimi video qui sul Marocco secondo me i più belli del canale invece per tutte le altre persone che mi hanno chiesto aggiornamenti per quanto riguarda i guadagni su YouTube avevo fatto questo video in cui dicevo quanto guadagnava un canale se non mi ricordo male da 2000 iscritti ora lo farò da 5000 iscritti per capire poi per tutte le persone che vogliono anche intraprendere questa strada o semplicemente per curiosità quanto sono i guadagni se ne vale la pena e tutte queste cose qui farò un video naturalmente anche quando uscirò dal Marocco per spiegarvi quanto ho speso in questo periodo di tempo quindi grazie mille per avermi seguito fino alla fine spero che il video vi sia piaciuto se è stato così mettete un bel mi piace se non siete iscritti ancora al canale e volete supportarmi in questo viaggio e soprattutto vedere insieme a me sia il vero Marocco ma soprattutto tutto il resto dei viaggi che verranno iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nei prossimi giorni con un altro video buona serata a tutti e a presto a presto a presto a presto